Ecco la sua Manzotin, signora. Ma gli dà una anche a me, signora. Signor Furari, buongiorno. Buongiorno. Mi invita alla sua trasmissione. Volentieri, però prima mi deve dire cosa pensa di Manzotin. Guardi, io avevo un problema con Carolina. Non mi mangiava assolutamente la verdura. Con Manzotin ho risolto il problema. E adesso dica tutto quello che vuole. Io vorrei fare un appello. Un appello a Mina. Mina, torna in TV perché sei una cannonata. Una cannonata come Manzotin. La qualità che conviene. La qualità, beh, la sapete. La convenienza ce n'è sempre una in più. Grazie.